E lo stesso sacripante, incontrata Angelica, esprime il proposito di passare all'azione. Corrò la fresca e matutina rosa che, tardando stagion, perder potria. So ben che a donna non si può far cosa che più soave e più piacevol sia, ancor che se ne mostri disdegnosa a talor mesta e flebil se ne stia. Non starò per repulsa o finto sdegno che io non adombri e incarni il mio disegno.